Domenico e Renato sono i titolari di questo nuovo centro Ford Appoggia. Con quale ambizioni, quale prospettive e intanto perché siete qui? Allora, abbiamo avuto la possibilità, grazie a Ford, di estendere il nostro raggio d'azione. L'azienda è già 34 anni sul mercato Ford, rappresentiamo il marchio Ford da 34 anni. sul Bari Nord, quindi Molfetta e Labatte. Adesso estendiamo la nostra raggio d'azione su questa provincia. Renato, perché Appoggia, visto che tra l'altro voi non siete foggiani? No, assolutamente. Siamo regioni di Molfetta, abbiamo deciso di rappresentare il marchio che Appoggia, grazie a Ford che ci ha dato questa possibilità, in una situazione in cui l'estensione territoriale era doppio per coprire comunque la rappresentatività anche in zone più grandi. Domenico, avete ovviamente fatto un'indagine di mercato, credete che questa vostra offerta possa incontrare delle soddisfazioni sul nostro territorio? Numeri, per esempio? Storicamente Ford Foggia è stato sempre un marchio abbastanza richiesto. è uno dei marchi più anziani, più storici nell'ambito automobilistico e siamo sicuri che con l'investimento che abbiamo fatto, con la formazione del personale e la struttura che comunque è tutta adeguata ai nuovi standard di Ford Europa, sicuramente darà i suoi risultati. Possiamo chiedere anche che investimento, credo notevole, abbiate fatto e anche che richiedute occupazionali date al territorio? Allora, praticamente la struttura conta quasi 3.000 m2, insomma il personale anche in questo periodo un po' particolare nell'ambito del mondo del lavoro abbiamo comunque assunto uno staff di 16 persone, tutti foggiani, quindi insomma questa è una dimostrazione ancora più importante di quanto ci crediamo noi sulla zona. Anche in termini di investimento Renato, insomma, credo che abbiate fatto un grosso sforzo o no? L'investimento è importante, sicuramente però comunque compensato dalla fiducia che si ha sia sul territorio e sia sul marchio Ford.